A tutti e benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale. Per qualche ora, questa mattina, davanti alla scuola primaria di Sarodia, Auristano ha regnato il panico. Infatti, intorno alle 8.30, in un cortile davanti al portone d'ingresso dell'istituto scolastico, sono state ritrovate delle siringhe e delle confezioni di metadone. Servono maggiori controlli, tuonano i genitori degli alunni. Sentiamo. A impedirne la vista c'era una grande siepe, ma quando i carabinieri del comando provinciale e gli operai della Auristano Servizi sono arrivati nella scuola primaria di Sarodia, hanno potuto vedere cosa si nascondeva tra le foglie. Decine di siringhe, piene di sangue e flaconcini di metadone. Una scoperta fatta questa mattina dal padre di uno dei piccoli alunni dell'istituto, che allarmato ha subito chiamato le forze dell'ordine. La pianta è stata immediatamente tagliata e il materiale è sequestrato. La notizia, che si è diffusa in tutta la scuola e in città, ha preoccupato e non poco i genitori dei bambini. È inaccettabile, hanno ottonato, che di fronte al cancello d'ingresso di un istituto scolastico possano essere trovate determinate cose. Le siringhe e il metadone vengono utilizzate da persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e l'idea è che questa pratica possa avvenire proprio in prossimità di una scuola insopportabile. Questo lo sfogo unanime di mamma e papà. Anche la dirigente della scuola primaria di Sarodia, preoccupata per la caduta, ha auspicato l'incremento dei controlli da parte degli organi deputati a vigilare sull'incolumità dei cittadini, soprattutto se bambini. E lunedì il mercato civico di via Mazzini a Oristano chiude i battenti per consentire lavori di ammodernamento della struttura a partire da lunedì 11 aprile e per circa un anno e mezzo gli operatori commerciali opereranno nei locali di via Cimarosa. Sentiamo Mariana Guarni. Il trasloco inizierà domani al termine del loro mare turno di vendita. E' tempo di trasferimento per gli operatori commerciali del mercato civico di via Mazzini. Per 510 giorni, tanto dovrebbero durare i lavori di ammodernamento della struttura, opereranno in via Cimarosa a partire da lunedì 11 aprile. Qua in via Cimarosa saranno ospitati 23 operatori commerciali, che non sono comunque la totalità degli operatori commerciali che stavano in via Mazzini, perché alcune attività hanno deciso di organizzarsi in proprio già da tempo. E' chiaro poi che queste attività che oggi hanno deciso di organizzarsi in proprio nel momento in cui il mercato di via Mazzini verrà riaperto, avranno il loro spazio. 575 metri quadri, due ingressi per il pubblico, parcheggio di servizio nell'area antistante alla scuola di via Bellini. Aperto da lunedì al sabato dalle 7 alle 14, il mercato di via Cimarosa ospiterà tre macellerie, due panetterie, un fioraio, 11 rivendite di ortofrutta, oltre a quattro pescherie e due rivendite di mitili. Soluzione ragionevole in attesa di poter inaugurare il nuovo mercato di via Mazzini, il cui progetto definitivo sarà approvato in settimana in giunta. Architettura di grande pregio, impianti energetici a consumo ridotto per la struttura che sarà dotata anche di ristorante, sala espositiva e area polivalente. L'impresa comincerà con la cantieramento intorno al 15 di aprile, con le utenze, con i primi trasferimenti di alcune attrezzature. cercheremo di fare in modo che questi 510 giorni diventino 500, 490, insomma cercheremo di fare in modo che i lavori si eseguano nel più breve tempo possibile. A gestirlo saranno gli stessi operatori commerciali riuniti in consorzio e ora il Comune avvia una riflessione anche sul mercato di via Costa. Vogliamo capire quanto quel mercato serve al quartiere, quanto gli operatori sono in grado di autogestirsi, cosa che adesso non succede ovviamente, e complessivamente fare un po' di conti tra vantaggi e svantaggi per l'amministrazione di mantenere quella struttura ancora aperta o se invece fare una verifica se eventualmente gli operatori di via Costa magari decidono che forse è più opportuno per loro tornare assieme agli altri colleghi in via Mazzini. In prefettura Orista non si è svolta una riunione per discutere della recente emergenza idrica che per due settimane ha interessato il capoluogo e altri paesi della provincia. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di Abanoa, la società che gestisce la risorsa idrica. Si è discusso delle cause che hanno determinato l'inquinamento dell'acqua e delle possibili soluzioni. In particolare per quanto riguarda la rete idrica che serve il territorio del Comune di Oristano si è concordato di verificare lo stato delle condotte e del loro eventuale sezionamento per limitare l'ambito di eventuali ordinanze di divieto di utilizzo dell'acqua. E Oristano è la prima provincia sarda a dotarsi dello sportello autismo. Sarà attivo nei locali dell'ufficio scolastico provinciale e opererà in sinergia col centro Vittor. Sentiamo. È il primo in Sardegna, uno dei dodici attivati in altre tante regioni d'Italia. A Oristano apre i battenti lo sportello autismo provinciale. Questa è una grande giornata in cui finalmente siamo riusciti a portare a buon fine quella che è stata una progettualità già attivata da parecchi mesi. Lo sportello aprirà il martedì e il giovedì pomeriggio al terzo piano dell'ufficio scolastico provinciale di Via Lepanto. È la risposta ad un fenomeno in costante crescita che nell'arco di un decennio ha portato il numero degli alunni con disturbi dello spettro autistico da 35 a 112 nelle scuole della provincia. Principalmente è rivolto alla scuola, in particolare agli insegnanti di sostegno ma anche agli insegnanti curriculari perché anche gli insegnanti curriculari hanno bisogno di formazione e di un supporto didattico organizzativo. Opereranno nove insegnanti dal profilo professionale molto elevato e saranno coordinati da me e avranno la possibilità di andare nelle scuole proprio per dare un supporto e un aiuto ai processi di integrazione e di autonomia dei bambini con autismo. Lo sportello sarà funzionalmente collegato al centro Victor attivo già da qualche anno presso l'istituto comprensivo Leonardo Alagon di Oristano. Il centro Victor è il CTS, quindi il centro territoriale di supporto alla disabilità e opera dando in comodato d'uso svariati i tipi di sussidi e di supporti tecnologici a favore della compensazione della disabilità o dei disturbi specifici di apprendimento. Le scuole possono fare richiesta al nostro istituto attraverso la modulistica che trovano nel sito del centro Victor e che comunque è pervenuta già a tutte le scuole e i nostri operatori nelle giornate di apertura danno in comodato d'uso questi sussidi. Fin qui l'impegno senza dubbio notevole della scuola. I bambini autistici diventeranno però persone adulte autistiche con il rischio concreto che diventino invisibili in una società impreparata da accoglierli. Mi auro che la nascita di oggi dello sportello autismo, così come tutte le attività che svolge il centro Victor, siano presto supportate anche dalla volontà politica di dare nella nostra provincia un aiuto, un sostegno reale alla possibilità di integrazione sociale di questi ragazzi. E siamo alla cronaca che ci porta ad Abbasanta, tentato di oltrepassare il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano abbassando. Così in preda al panico una 41enne di Nora Gugume dopo aver superato la prima barriera si è trovata di fronte e la seconda, spaventata dall'imminente arrivo del treno, ha innestato la retromarcia sfondando la sbarra che aveva alle spalle e liberando così i binari. La 41enne dovrà pagare una sanzione amministrativa di 85 euro. E proseguiamo con la cronaca. I carabinieri della stazione di Busacchi in collaborazione con quelli della compagnia di Ghilarz hanno denunciato in stato di libertà un giovane originario di Uratirso. In un capannone nella sua casa è stato rinvenuto, svariato, materiale, provento di furto, finimenti per il governo e la bardatura dei cavalli, selle in cuoio, motori marini, utensili per l'edilizia, casse acustiche e stereo che sono stati sequestrati. Le indagini dei militari hanno consentito di individuare alcuni soggetti che nei giorni scorsi ne avevano denunciato la scomparsa degli oggetti, appunto. L'uomo è accusato di ricettazione. Dopo le numerose lamentele dei suoi concittadini, il sindaco di Villa Urbana, Antonello Garau, ha scritto una lettera all'asla di Oristano per richiedere l'attivazione del servizio DPT. Sentiamo. A Villa Urbana le lamentele si susseguono da giorni, da quando alle farmacie è stato revocato un servizio per molti indispensabile, ossia quello che consentiva a una ventina di pazienti, tutti in età avanzata, di sottoporsi ai prelievi per la verifica della coagulazione del sangue. Riguardo alla terapia anticoagulante orale, il cosiddetto OPT, dover andare a Oristano, farsi accompagnare, andare, fare la visita, poi tornare per avere una terapia da fare che dura soltanto una settimana e poi andarci nuovamente, diventa molto pesante, mentre invece era molto più comodo quando si poteva fare prelievi in farmacia, il farmacista inoltrava l'asla che a sua volta si incaricava di suggerire la terapia consigliata per quella settimana. Sono esami per persone che soffrono di cuore, quindi sono anche molto delicati. Secondo alcune indiscrezioni, la revoca del servizio sarebbe da debitare a problemi economici. L'asla non avrebbe, stando sempre a quanto trappelato, il denaro per pagare la persona deputata ad analizzare i campioni di sangue. Qualsiasi sia la causa, a Villa Urbana la sospensione del servizio sta causando non pochi problemi, da qui l'appello del primo cittadino e vertici dell'azienda sanitaria locale oristanese. Il 23 di marzo ho inviato una lettera destinata al commissario straordinario dell'aslo, Maria Giovanna Porcu, e al direttore sanitario. Ancora non ho ricevuto risposta, sono fiducioso, spero che sentino le lamentere che arrivano dalla periferia, non solo dal sottoscritto, ma penso che anche altri paesi abbiano provveduto a lamentare. Insomma, tutti quanti abbiamo questa esigenza. Credo che sia giusto che da parte nostra si muovano le prime lamentere, ma comunque sono fiducioso sul fatto che l'aslo prenderà provvedimenti in merito. Adesso invece diamo uno sguardo alla nostra programmazione serale alle 21 e alle 23 in replica. Oggi verrà trasmessa la prima puntata di Effetti Sonori, trasmissione dedicata interamente alla musica isolana che andrà in onda ogni venerdì. Allora, vediamone un piccolo assaggio. Eccovi ragazzi, siamo qua in studio con Andrea Carmelita, cantante, e Lorenzo Puzzolo, che suona la batteria. Io direi di dare spazio alla musica, quindi alla vostra musica e proporrei di iniziare con un brano che ha un videoclip molto importante, poi spiegheremo perché è così importante. La canzone si chiama If You Wanna Cry e allora andiamo a sentirla. Va bene ragazzi, speriamo di rivederci presto, in bocca al lupo per tutti gli impegni. Va bene, noi invece ci vediamo venerdì prossimo, sempre con Effetti Sonori. Buona serata. Adesso invece ci trasferiamo a Tres Nunages, dove da oggi prende il via una rassegna di libri di autori sardi. Ce ne parla Pier Gavinovac. Parte a Tres Nunages una rassegna culturale organizzata da un'associazione culturale. Qual è questa associazione e che scopo ha la rassegna? L'associazione è l'associazione Billy Amuroni, che ha l'ambizione di essere un'associazione intercomunale, ovvero che vorrebbe riunire i paesi dell'Unione della Paranagia a Montiferro per animare la cultura sul territorio. Siamo partiti con questa rassegna, che non è una semplice rassegna, ma è qualcosa di più, nel senso che non presenteremo solo i libri, ma il libro servirà per poi far suscitare un dibattito. Affronteremo diversi temi, con Antonio Muroni affronteremo ad esempio il problema dell'immigrazione come fenomeno ancora attuale. Con Tonino Opens il venerdì prossimo, 8 aprile, parleremo della memoria storica e dei nostri paesi, dei nostri borghi che si spopolano. Con Fiorenzo Caterini invece affronteremo il tema del disboscamento della Sardegna e delle implicazioni che questo ha portato, sia culturali, economiche che paesaggistiche. Poi la rassegna prosegue con Gerardo Pirasa, che ci parlerà di grano cappello e di sfarinati locali e la rassegna ufficialmente chiuderà con Bacchisi o Bandino e la sua ultima fatica Noisi, Noischimisi, che invece ci parlerà dell'industrializzazione selvaggia della Sardegna, delle servite umilitari e un po' di tutte queste problematiche dell'isola. Ecco, dove si svolgeranno gli incontri? Gli incontri si svolgeranno per la prima parte al centro Mastino Marrasa di Tresnuragas e poi verranno seguiti da un buffet. Bene, con questo è davvero tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.